Ciao a tutti, sono Dario di Tredentum BBQ e oggi vi presenteremo la ricetta del filetto di maiale alla cannella con purè affumicato di mele e patate. Come prima cosa andiamo a preparare il filetto di maiale. Prepariamo il rub. Il rub sarà composto da tre parti di cannella, andremo in parti e non in pesi per semplicità. Tre parti di sale, una parte di pepe e una parte di aglio in polvere. Mescoliamo bene e il nostro rub è pronto. Per far sì che il rub rimanga più attaccato al nostro filetto andremo a ungere leggermente il filetto con un filo d'olio che ci servirà esclusivamente da collante. Come vedete ne metto veramente una goccia. Adesso andiamo a mettere il rub. Ecco qua. Il nostro filetto è pronto per andare in cottura. Andiamo adesso a preparare il nostro purè. Il purè sarà la prima cosa che andrete a mettere in cottura perché è quello che richiede più tempo. Prendiamo una bella patata e una bella mela a testa, a persona. Prendete una mela abbastanza acida e a pasta compatta e croccante. Risulterà meglio dopo in cottura. Noi per comodità le abbiamo già preparate, tagliate e pelate e andremo prima a mettere a lessare le patate e nel mentre metteremo da affumicare le mele nel barbecue. Andiamo in cottura. Perfetto. La nostra acqua sta bollendo e andremo a metterci le patate. Siamo sempre attenti a non scottarci. Ok. E queste dovranno andare all'incirca 35-40 minuti. Nel mentre abbiamo settato il nostro barbecue per una cottura in diretta, inserendo nella nostra smoking box uno smoking blend maiale. andremo a mettere le nostre mele in cottura in diretta, ad affumicare, per circa 20 minuti. Finiti i quali andranno messe a lessare con le patate e finiranno la cottura nello stesso momento. Sono passati circa 20 minuti e adesso le nostre mele sono pronte per essere messe a lessare con le patate. Prendiamo le nostre miele. Adesso andranno avanti a lessare per 15-20 minuti e dopo saremo pronti per fare il purè. Adesso siamo pronti per andare in cottura col filetto. Abbiamo settato il barbecue per una cottura in diretta a circa 150 gradi. Abbiamo inserito la nostra smoking box con il pork blend per la punicatura e andiamo a mettere il filetto di maiale nella parte spenta del nostro barbecue. Per controllare la temperatura del nostro filetto andremo ad utilizzare un termometro a sonda. Cerchiamo di inserirlo più al centro possibile. E' arrivato a 65 gradi il nostro filetto sarà pronto. Le patate e le mele erano pronte, adesso le abbiamo scolate e adesso andiamo a schiacciarle con lo schiacciapatate. Abbiamo finito di passare le verdure cotte, adesso torniamo sul gas. Mettiamo un goccio di latte e un po' di burro e cominciamo a mescolare. Perfetto, i nostri filetti sono arrivati a 65 gradi, adesso andremo a spostarli in cottura diretta per finire la rosolatura. Spostiamo la smoking box, diamo una pulita alla griglia, togliamo la sonda. e andiamo a grigliarli un attimo. Andiamo adesso a rosolare l'altro lato. Aspettiamo altri 30 secondi e il filetto sarà pronto. Andiamo a tirare fuori i nostri filetti e prepariamoci all'impiattamento. Bene, adesso andiamo a tagliare il nostro filetto di maiale. Andiamo a creare dei medaglioni larghi più o meno un centimetro, un centimetro e mezzo. Ok, spostiamo momentaneamente il tutto. Dopodiché prendiamo il nostro purè. e ci adagiamo sopra il nostro filetto. Ecco qua, questo è il filetto di maiale alla cannella con purè di mele e patata affumicato. Grazie a tutti. Grazie a tutti.